Buonasera a tutti, ci ritroviamo qui, purtroppo mi ritrovo da solo perché il mio conquilino mi ha abbandonato, quindi mi ritrovo qui da solo a commentare il risultato della partita Atalanta-Spal del posticipo di questa ventesima giornata di campionato. Clamorosamente la Spal espugna Bergamo con un risultato importantissimo in chiave salvezza. Andando a vedere molto velocemente la classifica con questa vittoria la Spal comunque resta in zona retrocessione, però può ancora lottare per la salvezza, infatti a più uno sta il Lecce e anche la Sampdoria che ora si vede costretta a lottare per la salvezza. Invece vediamo che questo passo falso dell'Atalanta la fa sprofondare, non proprio sprofondare, la fa cadere in quinta posizione, quindi in Europa League. E questo è un risultato fondamentale, un risultato di vitale importanza anche per il Milan. Io sono milanista, quindi il Milan con la vittoria, ricordiamo, 3-2 con l'Udinese. L'Udinese si è riavvicinata alla zona Europa, però ovviamente anche il pareggio del Cagliari ha beneficiato anche del pareggio del Cagliari col Brescia. E quindi tutta questa giornata è stata favorevolissima per il Milan. Ma tornando alla partita di oggi, e commentandola un po', ricordiamo che le reti sono state di Josif Ilicic, che ha aperto appunto le marcature al sedicesimo minuto. Nel secondo tempo la Spal l'ha ribaltata con Petagna e con Mattia Valuti. Ragazzi, commentando i gol, diciamo che il gol più bello a mio parere è stato quello di Mattia Valuti, perché ovviamente si è posizionato bene alle spalle dei difensori e ha tirato, ha liberato il tiro fuori aria. Il portiere Sportiello, il portiere dell'Atalanta, stasera ha giocato Sportiello stranamente, gollini in panchina, non poteva fare nulla su questo tiro. E anche il gol di Petagna è stato molto bello, dopo che nel primo tempo, ricordiamo, che ha preso un clamoroso palo, ha colpito di testa ma è stato sfortunato, ha preso palo, e nel primo tempo, dopo il gol di Ilicic, ricordiamo anche che c'è stato un altro palo ad opera di Duvan Zapata, che comunque ha fornito l'assist per il gol di Ilicic. L'Atalanta nel primo tempo ha gestito, ha dominato, se vogliamo, infatti andando a vedere le statistiche, primo tempo, no, anzi, scusatemi, primo tempo, anzi no, stranamente, più nel secondo tempo, anche se io direi che nel primo tempo ha giocato meglio l'Atalanta, nel secondo la Spal, però qui dicono il contrario, dicono che nel primo tempo la partita è stata abbastanza equilibrata, ma che anzi la Spal ha fatto anche più tiri dell'Atalanta, mentre nel secondo tempo l'Atalanta si è resa più pericolosa. Diciamo che la Spal, dopo che ha trovato il vantaggio, infatti ha praticamente ribaltato la partita in sei minuti, la Spal non ha fatto altro che chiudersi, cercare di vanificare tutti i colpi offensivi dall'Atalanta, perché l'Atalanta, dopo che è andata in svantaggio, ha cercato insomma di ribaltare la situazione, e quindi ha cercato in tutti i modi di segnare, quindi la Spal non ha fatto altro che difendersi e portare a casa questo risultato molto sofferto. Ragazzi, cosa dirvi? Io sono contentissimo per questa vittoria della Spal, più che altro per la sconfitta dell'Atalanta, che comunque è un avversario ostico, sta comunque giocando benissimo, è un avversario comunque difficile da abbattere. E cos'altro dirvi? Le statistiche ve le ho fatte vedere, andiamo a vedere velocemente le formazioni, non ci sono stati grandi cambi nelle formazioni, se non soltanto un giocatore titolare che è stato anche l'artefice dell'assist a Mattia Valoti, infatti sto parlando di lui, di Dabo, che è uno dei neoacquisti di questo calciomercato, ed è stato subito decisivo, dopo aver disputato un'ottima partita in Coppa Italia, anche se la Spal è uscita sconfitta contro il Milan, Dabo oggi è stato schierato titolare e ha fornito l'assist vincente, quindi oltre questo le formazioni sono... Ah, è un altro neoacquisto subito titolarissimo, è stato Mattia Caldara, che è stato subito schierato da Gasperini, che ha disputato comunque una partita discreta, considerando che non giocava da parecchio tempo, per il resto nulla da evidenziare nelle formazioni, e niente ragazzi, non ho niente altro da aggiungere su questa partita, sono contentissimo, voglio invece soffermare un attimo, voglio soffermarmi con voi sull'altro risultato di ieri sera, risultato della partita Juventus, Juventus-Parma, che ha visto la Juve purtroppo vincente, doppietta del solito Cristiano Ronaldo, che non si vuole più fermare, da quando ho detto a un amico mio, Ronaldo tanto fa schifo, Ronaldo fa cacare, Ronaldo non segna più, nelle ultime 8 partite, 9 partite, 11 gol, purtroppo ragazzi, cosa dobbiamo fare? Andando a vedere velocemente le statistiche, vabbè, la Juve ha stradominato la partita, Parma non si è mai reso chissà quanto pericoloso, il gol di Cornelius, l'incornata di Cornelius vincente, è stata molto bella, ma non è bastata, perché la Juve ha comunque dominato in tutti i settori, vendendo velocemente le formazioni, Higuain è rimasto in panchina, anche se poi nel secondo tempo è entrato, Ramsey trequartista, boh non si può proprio vedere, non lo so perché l'hanno schierato trequartista, per la formazione del Parma non noto nulla di nuovo, Kuluseschi il prossimo acquisto juventino, non ha brillato in questa partita, sicuramente perché non voleva fare un dispetto alla Juve, infatti io già lo sapevo che non avrebbe fatto un granché, ragazzi che dirvi, io la partita non l'ho vista, quindi più di tanto non saprei cosa dire, andando a vedere velocemente le statistiche, 60% di possesso palla a favore della Juve contro il 40% del Parma, tiri ovviamente molto superiori a quelli del Parma, niente ragazzi, volevo condividere con voi questo risultato, andiamo a vedere velocemente la classifica, ovviamente con questa vittoria la Juve si porta a più 4 sull'Inter, che ahimè ha pareggiato con il Lecce, passo falsissimo di Antonio Conte, invece per gli uomini, per appunto il Lecce è un risultato fondamentale, perché si distacca anche se di un solo punto dalla zona retrocessione, e niente, la Lazio ovviamente invece con la tripletta di Immobile vola al terzo posto, magari con la sconfitta appunto, no, sconfitta dell'Atalanta, si, 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 un po' si allontana, la Roma, ricordiamo anche il risultato della Roma di ieri col Genoa, vince tranquillamente 3 a 1, e quindi consolida il suo quarto posto al momento, insomma ragazzi sto notando che quest'anno il campionato è molto più interessante, perché ci sono squadre che comunque se la stanno giocando, per la zona Champions, zona Europa League barra Champions, stanno tutte lì, cioè tutte nei 5 punti di differenza, e niente ragazzi, questa settimana non ci sono grandi partite, quindi dovremo attendere la ventunesima giornata, che si aprirà con la partita Brescia-Milan di venerdì 24, quindi niente ragazzi, penso che se ci sentiremmo soltanto in caso di aggiornamenti o sul calciomercato, noi ovviamente registreremo dei video, io e il mio collega registreremo dei video soltanto nel momento in cui ci saranno delle certezze, perché non vogliamo insomma trattare, parlare di possibili acquisti, perché acquisti che magari poi non si vanno neanche a concretizzare, si parla tanto di Eriksen, di un possibile arrivo di Eriksen all'Inter, questo sarebbe il colpaccio forse con cui si chiuderebbe il calciomercato dell'Inter, per il Milan non mi sono ben informato, ci sono un po' di nomi, avevo letto prima che si sta cercando un sostituto, un terzino sinistro, che vada a sostituire Rodriguez, si era fatto il nome di un giocatore, adesso non mi sto ricordando, ma non penso che per il Milan ci saranno degli ulteriori innesti insomma. E quindi niente ragazzi, con questa vi saluto, ci sentiamo nei prossimi giorni e insomma auguro una buona serata a tutti, commentate, condividete, iscrivetevi, soprattutto iscrivetevi, non c'è bisogno di attivare la campanellina e niente, alla prossima ragazzi.